Salve a tutti, sono Pierpaolo Sartori, titolare e fondatore del 2010 di UBM Bologna, la prima compagnia di corriere espressi ecosostenibili della città di Bologna. UBM sta per Urban Bike Messenger. Gli Urban Bike Messenger sono appunto i corrieri in bicicletta che da oltre 30 anni, nelle maggiori capitali europee e nordamericane, svolgono questo servizio che io ho deciso di portare anche nella nostra città. UBM si occupa tutti gli effetti di delivery e i nostri punti di forza sono la velocità, l'affidabilità e l'ecosostenibilità. La velocità perché possiamo muoversi nel centro urbano, approfittando delle zone pedonali e delle zone di traffico limitato, che per noi sono una risorsa per accelerare i tempi di consegna. Affidabilità perché tutti i nostri ciclisti sono ciclisti professionisti, che credono nella mission della nostra azienda, cioè l'ecosostenibilità, ed ecosostenibilità perché la bicicletta per l'appunto è un mezzo di impatto zero che non crea emissioni. E la mission della nostra azienda per l'appunto è consegniamo una Bologna più pulita, data proprio da questi tre fattori.